Temis allora è il 2 dopo l'Embol Trophy, anche la Coppa Italia, adesso vi manca solo il campionato? Manca solo quello, sì, però l'abbiamo dimostrato oggi che sarà difficile, l'abbiamo capito, se dovevamo ancora capirlo oggi è ancora di più. Vedremo, ci capita già sabato, abbiamo il Casarano e abbiamo visto ieri, non sarà facile. In quest'ultimo periodo sia in campionato che in queste due partite di Coppa c'è stato molto turnover, questo vi aiuta? Sì, ci aiuta perché siamo in tanti e quindi tutti sanno che possono giocare, l'allenatore ci gestisce bene e quindi per ora sta andando tutto bene, speriamo che continui ad andare così già da sabato prossimo. Sia ieri che oggi sono state due battaglie, ve l'aspettavate più facile? No, ieri sapevamo che era una partita dentro o fuori, oggi forse un po' più facile ce l'aspettavamo, però dopo il primo tempo negli scuolatoi ci siamo detti che nessuno ci legava niente e quindi per fortuna abbiamo lottato fino alla fine. Ultima cosa, sei l'idolo delle ragazzine, non avevo mai visto un giocatore di pallamano in Italia con tanti fans. No, non è vero, le conosco tutte, sono tutte figlie di qualche dirigente, amiche. Allora tua moglie può stare tranquilla? Sì, ovviamente. Grazie. Ciao, voca...